È arrivato il momento clou, uno dei momenti clou della serata. Sì, è una serata ricca, però questo è un momento speciale. Accogliamo l'ospite, che è veramente importante, pensate che è una delle voci storiche dei nomadi. Accogliamo Cristiano Turato! E tra l'altro arriverà insieme al poliedrico Alberto Roveroni, che hanno creato un nuovo gruppo musicale che si chiamano I Video. Eccoli qui. Eccoli qui. Allora, Cristiano Turato e Alberto Pardone. Mettiamo al centro gli artisti. Allora, abbiamo Cristiano Turato e Alberto Roveroni. Bene. Benissimo. Ci siamo presentati tutti. Ci siamo presentati. Come si chiama questo strumento? Ecco sì, intanto abbiamo fatto... Se possiamo inquadrarlo, c'è una telecamera, possiamo gentilmente inquadrare lo strumento, così lo spieghiamo al volo. Guarda, questo è uno strumento moderno, diciamo così, che praticamente ripropone le note del pianoforte in un'altra forma. Bellissimo. Quindi siamo curiosi di ascoltare le vostre canzoni. Tra l'altro tu, cinque anni nei Nomadi. Detto velocissimamente, comunque è un pedigree molto importante. Sono stati cinque anni bellissimi. Da questi cinque anni mi porto via specialmente due cose. L'amicizia con Sergio Reggioli, che è il violinista, e naturalmente... Sempre bello parlare di amicizia, perché la musica serve anche per questo. Assolutamente. E poi mi porto via i visi delle persone che in cinque anni ho incontrato. E che devo dire la verità, mi hanno cambiato come persona. Mi hanno fatto crescere come uomo, come padre, come marito. E quindi voglio veramente ringraziare. E devo fare anche una piccola cosa questa sera, perché oggi pomeriggio ho sentito un bambino che ha una malattia di quelle rare, che si chiama Cristian. E ho promesso che, insomma, l'avrei salutato. Ciao Cristian Cialona. Un applauso a Cristian! Qui da Cantando e Ballando ti salutiamo. Allora, Cristiano, velocissimamente... È l'amicizia che vi ha unito, giusto? Ho capito bene? Esattamente, volevo entrare... A proposito di amicizia, sono... Ah, parli di me da Alberto. Eh sì. Ma no, noi ci conosciamo da 22 anni. Abbiamo fatto di tutto. Bisticiato, ci siamo amati. Adesso li volete bene. Però questa è la fase buona. Sì, questa è la fase buonissima, insomma, dipende, perché poi un giorno magari ci si alza diversamente. Infatti, ti guarda un po' male, eh? Ti guarda male, eh? Di solito in questi casi si dice che praticamente ci sono sempre due famiglie, perché praticamente ci sentiamo almeno otto volte al giorno. Ecco. Beh, direi che... Molto bene. Quasi la moglie gelosa, potremmo dire. Allora, dopo parleremo bene di questo progetto. Esatto. I video, direi di andare avanti. Come si chiama la canzone che ci presentate? Si intitola Prima di me. A voi i video! Un passo in là è solo il vuoto. E poi... E poi... E poi... E poi... Grazie a tutti. 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 Un applauso ai video, due grandi talenti davvero, però rimanete qui con noi perché insieme lancieremo la pubblicità. Uno, due, tre, pubblicità!